Bene, ci sono due avvenimenti durante l'anno, ben distinti, non uno, due, che cambiano, mutano, sconvolgono completamente il cervello femminile. Questi due avvenimenti si chiamano saldi. Usciamo e subito individuo il negozio numero uno del periodo dei saldi, il negozio di intimo femminile. Signori, ci avviciniamo, sembrava di vedere la guerra di Troia. Dentro entriamo, il caos, l'inferno. C'era anche Caronte che portava in giro i fidanzati morti, nel frattempo cadevano morti, distrutti, e queste donne impazzite, la KC, non ce la faccio più, prendo lei, esco fuori, guardo l'orologio, sono passate due ore, guardo l'altro, ma c'era quello di Caronte, ma che cazzo vuoi Caronte? Ero distrutto, avvilito, quando lei in lontananza vede una scritta luminosa, non posso dire il brand, lo chiamiamo solo... come... no, capito? Un minuto, bene. Entriamo dentro, una scritta, fino all'80% di saldi, lei perde l'uso della parola. Mi chiede... amore, tutto bene? Ascolta, io con te che fai l'è, non ci sto. Vado a fare un giro, torno tra mezz'ora, ci vediamo qui, va bene? Vado, torno, non c'era più, ma dove era? Era qui a fare l'è. A un certo punto la musichetta del negozio va via, è una voce dall'alto, si è smarrita, una signorina di nome l'è. Il signore l'è è pregato di venirsela a prendere. Grazie a Vito Carrer. Grazie. Sei stato nei tempi, tra l'altro. Eh, lo so. Sei stato nei tempi. No, sei stato nei tempi.